Russia attacca Kiev con missili ipersonici, frammenti cadono vicino un ospedale pediatrico. Venerdì 11 agosto la Russia ha lanciato un nuovo attacco missilistico contro l'Ucraina. Alle 10 ora locale, una serie di missili ipersonici aria-superficie Kinsal-X-47M2 sono stati lanciati da aerei MiG-31K contro la regione di Kiev. Dopo l'allarme aereo sono state udite diverse esplosioni nella capitale. L'allarme è stato dato anche nelle regioni di Zitomir, Vinnizia, Kmelnitsky, Kyrnivsi e Ivano-Frankivsk. Il sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha riferito di esplosioni in città. Secondo lui, frammenti del missile abbattuto sono stati ritrovati all'interno di un ospedale pediatrico, fortunatamente senza causare vittime o danni strutturali significativi. Oltre ai rottami del razzo caduto nel territorio di uno degli ospedali pediatrici della capitale, sono stati trovati altri due siti di impatto nel distretto di Obolona-Kiev, ha scritto Klitschko su Telegram. Ha aggiunto che, in via Bogatirskaya il tetto di una casa privata è stato danneggiato, senza feriti. Esplosioni sono state segnalate anche nelle regioni di Kmelnitsky e Vinnizia. Le forze ucraine hanno riconquistato terreno vicino Bakhmut. Nonostante gli avanzamenti, il viceministro della difesa Maliar avverte di una situazione da «incubo» più a nord a Kharkiv. L'esercito ucraino ha riconquistato le alture sopra Bakhmut nel Danetsk e sta circondando con successo le truppe russe in città, ha detto il ministro della difesa a Kiev. Maliar ha anche messo in guardia su uno scenario da «incubo» più a nord dopo l'evacuazione obbligatoria di 12.000 civili nella regione di Kharkiv. A Bakhmut, i russi non possono più muoversi e gli ucraini stanno progredendo nell'accerchiarli dopo mesi di sanguinose battaglie. Nei dintorni della città, il nemico è stato costretto a ritirarsi. A Kharkiv invece la situazione è critica, con intensi bombardamenti russi nelle aree da poco liberate. Per questo le autorità hanno ordinato l'evacuazione urgente di 37 località. Secondo Maliar, i russi stanno attaccando a nord di Bakhmut per distogliere le forze ucraine, dopo i progressi sugli avamposti. A sud invece gli ucraini puntano verso Urozaine nonostante i pesanti bombardamenti. Anche a Zaporizia missili russi hanno ucciso due giovani musiciste e un uomo, ferendo altre nove persone. L'Ucraina resiste e continua ad avanzare nonostante la strenua difesa nemica e l'esaurimento di entrambe le parti in questo sanguinoso scontro. Arkady Volov condanna fermamente la guerra di Putin in Ucraina. Arkady Volov, cofondatore del gigante internet russo Yandex, ha rilasciato una dichiarazione pungente condannando la guerra della Russia in Ucraina. «Sono assolutamente contrario all'invasione barbara dell'Ucraina da parte della Russia», ha detto Volov in una dichiarazione condivisa con l'emittente Letton e Meduza e il sito Debel. «Provo orrore per il destino delle persone in Ucraina, molte delle quali miei amici e parenti, le cui case vengono bombardate ogni giorno». Volov, 59 anni, che ora vive in Israele, si è dimesso da CEO e direttore esecutivo di Yandex nel giugno 2022 dopo essere stato sanzionato personalmente dall'UE. Pochi giorni prima ha affrontato critiche su media e Telegram per aver voluto prendere le distanze dalla Russia. «Nonostante non viva più in Russia dal 2014, capisco di condividere responsabilità per le azioni del paese», ha detto. Ha poi spiegato di aver supportato ingegneri russi che hanno lasciato il paese dopo l'invasione, aggiungendo valore ai paesi che li accolgono. «Sono rimasto in silenzio per motivi che si possono discutere, ma non il contenuto del mio messaggio, sono contrario alla guerra», ha affermato. Yandex è stata per anni pioniera tecnologica in Russia ma ha fatto compromessi con il regime, manipolando ricerche e censurando media indipendenti. Dopo l'invasione migliaia di dipendenti l'hanno lasciata. Oggi Voloz potrebbe rinunciare ai propri asset in Russia, soggetti a pressioni del regime. Forze statunitensi come «misure di protezione» mentre le truppe africane si dispiegano in Niger. Il comando del Pentagono che sovrintende alle operazioni militari statunitensi in Africa ha riferito a Newsweek di aver adottato misure per salvaguardare il personale di stanza in Niger, mentre una coalizione di nazioni dell'Africa occidentale ha attivato le truppe per cercare di ripristinare l'ordine costituzionale nel paese. «L'Africa Command-Africom sta monitorando la situazione in Niger e le forze statunitensi continuano ad adottare misure prudenti di protezione della forza», ha detto un portavoce dell'Africom. Le dichiarazioni arrivano dopo che la Comunità Economica degli Stati dell'Africa occidentale ECOVAS ha annunciato durante un vertice d'emergenza dello scorso giovedì l'attivazione di una forza multinazionale di riserva in risposta al rifiuto del maggiore generale Abduramane, Omar, Ciani di cedere il potere al presidente del Niger Mohamed Bazzoum, deposto in un colpo di stato a fine mese. Il presidente nigeriano Bola Tinubu, che ricopre la carica di presidente ECOVAS, ha detto di sperare ancora in una «risoluzione pacifica», ma ha precisato che «nessuna opzione è esclusa», compreso l'uso della forza come ultima risorsa. Uno stato referente del Dipartimento di Stato americano ha rinviato Newsweek a una dichiarazione del segretario di Stato Antony Blinken dello scorso giovedì, in cui Washington aderisce all'appello dell'ECOVAS per il ripristino dell'ordine costituzionale in Niger. «Gli Stati Uniti apprezzano la determinazione dell'ECOVAS di esplorare tutte le opzioni per una risoluzione pacifica della crisi», si legge nella dichiarazione. «La democrazia è il miglior fondamento per lo sviluppo, la coesione sociale e la stabilità in Niger. Siamo con il popolo nigerino nel lavorare verso questi obiettivi. Condanniamo con forza la detenzione illegale del presidente Mohamed Bazzoum, della sua famiglia e dei membri del governo», prosegue la dichiarazione, «così come le inaccettabili condizioni in cui vengono tenuti e ne chiediamo il rilascio immediato». Blinken ha avvertito che gli USA manterranno responsabile il CNSP di Chani per la sicurezza e l'incolumità di Bazzoum, della sua famiglia e dei membri del governo detenuti. Il Niger è un partner di sicurezza importante per gli Stati Uniti nella lotta ai gruppi militanti, inclusi quelli legati ad Al-Qaeda e allo Stato Islamico del Grande Sahara. La base aerea di Agadez gioca un ruolo chiave nelle operazioni di droni nella regione. I simboli geografici, i leader dell'Ecovas ordinano l'attivazione della forza di riserva, aumentando la pressione sugli ufficiali dell'esercito che hanno deposto il leader democraticamente eletto del Niger un mese fa, ma lasciano la porta aperta a una soluzione diplomatica. Parlando dopo un vertice straordinario dell'Ecovas ad Abuja, il presidente nigeriano Bola Tinubo ha avvertito che «nessuna opzione è esclusa», compreso l'uso della forza come ultima risorsa. È stato letto un comunicato ufficiale che chiedeva ai funzionari della difesa dell'organizzazione di «attivare immediatamente la forza di riserva Ecovas con tutti i suoi elementi». Un'altra risoluzione parlava di «ripristinare l'ordine costituzionale nella Repubblica del Niger». Tinubo aveva detto che «negoziazioni diplomatiche e dialogo dovrebbero essere fondamento della risposta dell'Ecovas, evidenziando la diplomazia per ripristinare l'ordine costituzionale». Gli Stati Uniti, tramite il segretario di Stato Blinken, hanno espresso sostegno per l'Ecovas nel ruolo chiave di ripristinare l'ordine costituzionale. Tuttavia i messaggi contrastanti dell'organizzazione regionale non fanno che aumentare le preoccupazioni per un possibile conflitto caotico nel Sahel. Il Niger è strategico per gli sforzi occidentali nella regione, ma questi sono già stati seriamente compromessi dai colpi di Stato in Mali e Burkina Faso. Le difficoltà pratiche e i costi di un intervento militare, uniti al sostegno dei paesi vicini al nuovo regime, sembrano aver spinto l'Ecovas verso un approccio diplomatico, anche per placare i timori dei membri settentrionali. La credibilità dell'organizzazione ne esce comunque danneggiata, mostrando incoerenza tra gli annunci iniziali e le mosse successive. La stabilità del Niger e dell'intera regione del Sahel rimane fortemente a rischio.